Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Omicidio di Yara Gambirasio, dopo quasi 15 anni dall'evento, spunta un nuovo colpo di scena sul caso. I legali dell'accusato, Massimo Bossetti, hanno potuto visionare i reperti legati all'efferato crimine e hanno rilasciato una dichiarazione che farebbe ipotizzare una nuova svolta. Come anticipato, nella giornata di ieri, lunedì 13 maggio 2024, gli avvocati di Massimo Bossetti hanno potuto visionare per la prima volta reperti e campioni che hanno portato alla condanna il loro assistito. In sede di un'udienza a porte chiuse e con Bossetti in videoconferenza, i legali hanno aperto le tre scatole sigillate e preso visione delle buste con gli oggetti che sono rimasti del processo. Tra i reperti c'erano indumenti sulla quale, durante le indagini, furono trovate tracce del DNA prima attribuite a ignoto 1 e poi ricondotte a Bossetti. Da quanto viene riportato dall'ANSA, i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno trovato oltre ai 54 campioni che contenevano anche 23 diluizioni, alcune riconducibili alla traccia 31 G20, ritenute di Bossetti, e altre anonime. I legali di Bossetti avrebbero commentato quanto visionato dopo l'udienza. Come temevamo i campioni sono stati conservati a temperatura ambiente, quindi vedremo che cosa ci potranno dire. Probabilmente si sono deteriorati, e questo lo verificheremo. E poi il disappunto per come è stata portata avanti l'indagine sul caso di omicidio di Yara Gambirasio. Prima ci è stato detto che il materiale era tanto, poi che era poco. Adesso capiamo che è tanto, se c'erano 23 diluizioni. Ora, però, soprattutto scopriamo che queste analisi erano ripetibili dal primo giorno. Il materiale c'era mentre la Corte d'Assise d'Appello e la Suprema Corte ci hanno detto che quel materiale era esaurito. Oggi abbiamo la prova che questo è un falso storico. Sull'articolo dell'ANSA viene infine riportata una dichiarazione importante da parte della difesa di Massimo Bossetti. Per noi è una certezza che ignoto uno non fosse Massimo Bossetti, anche al DL la della prova genetica su cui si fonda quasi esclusivamente il processo.